Faremo i conti con un 2021 all'insegna degli aumenti quando tutto il resto della comunità tra privati, imprese e aziende ci chiede esattamente il contrario, ovvero una riduzione. Aumenti all'orizzonte per la tassa sui rifiuti latari. È stato infatti nell'Assemblea dello scorso dicembre che l'Ato Toscana Sud ha approvato a larga maggioranza le nuove tariffe rifiuti calcolate secondo il nuovo metodo ARERA. Sul totale del corrispettivo pari a 162 milioni, l'aumento sul 2019 è dell'1,7% con punte massime di crescita che arrivano al 6% in alcuni comuni. Una determinazione che adesso verrà inviata all'autorità ARERA per la definitiva approvazione che poi si rifletterà sulla tari del 2021, mentre quella del 2020 era rimasta invariata. Aumenti fortemente contestati da uno dei 104 comuni soci, è il caso di Castiglion Fiorentino. Questo gestore e questo ambito, ci metto anche il nostro ambito di cui il nostro comune fa parte insieme agli altri comuni della provincia di Arezzo, Siena e Grosseto, invece che essere un ambito ottimale è stato un ambito a cui abbiamo rivolto tutte le nostre speranze per la famosa ottimizzazione dei costi. In realtà i costi non sono stati, a questo punto possiamo dirlo, ottimizzati per niente. Andremo incontro a degli aumenti. La spirale è irreversibile perché ho fatto proprio una verifica degli ultimi 20 anni a Castiglion Fiorentino. Siamo partiti da 800 mila euro circa negli anni 2000, siamo arrivati a 2 milioni negli anni 2020. Quindi tutto questo, alla luce del fatto che ai cittadini è stato chiesto anche di adoperarsi per la raccolta differenziata, se questo è il premio, sinceramente credo che sia del tutto inspiegabile sia verso i cittadini e le imprese, ma anche verso le amministrazioni comunali che fanno da esattori e incassano la Tari per conto del gestore del servizio. Che cosa si può fare e secondo lei perché questi costi non sono stati ottimizzati? In prima battuta la nostra regione deve rivedere quello che è stata un po' questa suddivisione. Ho citato non a caso l'ambito sanitario, che la stessa parte che l'ha proposto a suo tempo adesso cede di rivederlo. E la stessa cosa io mi auguro che avvenga nei rifiuti quando si parlava addirittura di un ato unico a livello regionale che poteva garantire il servizio a tutta la Toscana. Ecco, io credo che a partire dalla regione fino alle vari ambiti ottimali territoriali della nostra Toscana Sud, ma anche della Toscana del Nord, dovremmo assolutamente batterci perché questo sistema si interrompa. E per interromperlo probabilmente non bisogna neanche escludere il fatto che si ritorni alle antiche suddivisioni, se fossero attuabili e possibili, ovvero quelle provinciali piuttosto che interprovinciali. Ecco, però lei ha detto l'ato di cui anche il mio comune fa parte, quindi i comuni sono soci. Ok, quindi i comuni possono però dire la propria. Cioè, lei vuol fare un appello ai suoi colleghi, i primi cittadini? Io faccio un appello sicuramente a tutti i colleghi, a tutti i soci, a partire dal presidente Delato, che è il nostro sindaco di Arezzo, che ovviamente si è battuto anche lui per fare la sua parte, ma evidentemente non abbiamo i risultati. Se non ci sono i risultati bisogna assolutamente ribellarci. Bisogna assolutamente ribellarci. Non è una questione populistica questa, ma è una questione proprio di evidenza, perché se le associazioni di categoria ci chiedono di pagare la Tari, ci chiedono una riduzione e noi andiamo nella direzione direttamente opposta, credo che questo non possa essere accettabile.